Rossetti che ho comprato e mai usato parte 6 Questo rossetto di Lancome che in realtà non ho comprato, ma ho rubato In realtà mi è stato dato come campioncino È un rossetto rosso, anche un rosso molto bello Però un po' troppo acceso Io solitamente quando devo mettere un rossetto rosso tendo per dei rossi un po' più scuri Dato che dovevo provarlo in questo video Volevo approfittarne per provare anche a fare le cherry cola lips Rimuovo il mio rossetto E iniziamo con la matita che per fare le cherry cola lips deve essere Verde, no, marrone Sponiamo un po' la matita Le matite scure, viste così, fanno sempre un po' l'effetto baffo E adesso proviamo il nostro rossetto rosso Il profumo è buonissimo Ed è morbidissimo, sembra quasi un balsamo per labbra Allora, cherry lips fatte Il rossetto è stupendo, non so perché non l'ho mai utilizzato Decisamente lo userò, anzi mi sa che comprerò proprio la versione grande Se vi interessa è l'Absolue Rouge Cream di Lancome e il colore è il 132 Grazie a tutti 32.